Buongiorno ragazzi, in questo video, che in realtà è molto semplice, parliamo di una macchina termica ideale, quindi una macchina che assorbe calore da una temperatura alta, quindi da una sorgente a temperatura alta, che chiamiamo TC, e una macchina che cede calore ad una sorgente a temperatura TF. Allora, noi cosa sappiamo? Sappiamo che il lavoro è 4100 J al ciclo, che la potenza sviluppata della macchina termica è 340 W, sappiamo che la macchina assorbe dalla sorgente a temperatura calda 9400 J per ogni ciclo, attenzione se le assorbe ogni secondo o per ogni ciclo, perché è diverso, perché non è detto che un ciclo duri un secondo, e poi sappiamo che la differenza tra le temperature è di 250 C, e dobbiamo trovare di questa macchina il rendimento, il valore delle due temperature, il calore che la macchina termica cede alla sorgente a temperatura più fredda, e il numero di cicli al secondo. Allora, intanto cominciamo a mettere ciò che conosciamo sulla figura, nel senso che noi sappiamo che QC, se noi ragioniamo su un ciclo, QC noi sappiamo quanto fa, perché vale 9400 J, poi sappiamo che il lavoro è 4100 J, quindi diciamo dai dati possiamo togliere questi per capire cosa ci rimane. Poi abbiamo un'informazione sulla potenza, allora ragazzi la potenza è semplicemente il rapporto tra il lavoro ed il tempo, quindi il lavoro creato dalla macchina in un certo tempo, fratto quel tempo lì. Però per adesso questa informazione non ci sembra utile, e vediamo cosa ci chiede di calcolare. Allora, intanto ci chiede di calcolare il rendimento. Questa è una macchina termica ideale, quindi vuol dire che il rendimento si può trovare in due modi, perché il rendimento ideale coincide con quello effettivo della macchina, nel senso che il rendimento di una macchina è il rapporto tra L e QC, questo vale sempre, ma L ce l'ho, QC ce l'ho, quindi a me basta fare 4100 J, diviso 9400 J e viene, allora ad occhio un rendimento più basso del 50%, e precisamente 0,4362, e quindi se lo vogliamo convertire in percentuale, il 43,62%, comunque un buon rendimento. Bene, quindi il rendimento l'abbiamo trovato. Ok, allora passiamo alla cosa successiva. In realtà, forse qui non è furbo andare in ordine, perché ovviamente, visto che QC è l'energia che, entra, ed L e QF sono le energie che escono, è banale andare a trovare, ragazzi, subito QF. Tanto mi viene chiesto, visto che QC, ragazzi, è L più QF, ok, quindi l'energia che entra è uguale all'energia che esce, ovviamente QF risulta la differenza tra QC ed L, quindi mi basta fare 9400 meno 4100, che viene 5300 J. Lo vado a mettere qui, quindi 5300 J. Poi, in realtà, io potrei adesso, ok, andiamo in ordine, potrei trovare TF e TC. Allora, perché? Intanto io so una relazione, perché so che la loro differenza di temperatura è 250 C. Perdo un secondo. I polli pensano, intanto i polli si ricordano sempre che bisogna mettere in Kelvin, ma questo lo sanno tutti, non esiste nessuna persona con un cervello che lavori in termodinamica con il Celsius, e fin qua. Ma la domanda è, se io ho ΔT in Celsius e lo devo mettere in Kelvin, devo fare più 273? Ovviamente no, perché le temperature ti vanno convertite, le differenze no, nel senso che se due temperature differiscono di 250 Celsius, allora differiscono anche di 250 Kelvin. Quindi intanto utilizziamo questa informazione qua. Questo è un nostro dato che allora dobbiamo ancora utilizzare. Ovviamente se noi sappiamo la differenza di due temperature, non possiamo trovare le due temperature. Abbiamo bisogno, ragazzi, di un'altra relazione. E qual è questa relazione qua? Beh, questa. Questa parola qua. O, come c'è scritto nel libro, la parola reversibile. Il testo recita in una macchina reversibile. Perché, ragazzi, in una macchina reversibile, il rendimento effettivo della macchina, ok, quindi quello che viene trovato con L su QC che abbiamo trovato prima, è identico al rendimento ideale, ok, che ha trovato Carnot, cioè 1-TF su TC. E questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che noi il rendimento lo conosciamo. Il rendimento è esattamente quello che avevo trovato prima, 0.4362. E poi, visto che io devo trovare TF e TC, allora uno dice, beh, in questa equazione non puoi trovare entrambi, no? Perché comunque è un'equazione a due variabili. Infatti, ragazzi, noi sappiamo un'altra cosa. Sappiamo anche che la differenza di temperatura è pari a 250 Kelvin. E quindi che TC-TF fa 250 Kelvin. Come potete vedere, questo è un sistema tra due incognite. E quindi adesso noi andiamo a trovare sia una che l'altra. Allora, questo diventa ovviamente un problema ragazzi di matematica. Vediamo il modo più intelligente per farlo. Allora, io farei così. intanto partirei dalla prima riga e porterei l'1 di là. Quindi questo 1 va di là e diventa 1-1. Poi io cambierei di segno, quindi qui diventa più, meno, più. E quindi vado a trovare che il rapporto tra le due temperature è pari a meno 0,4362 più 1, oppure 1-0,4362. Quindi 0.5638. Ragazzi, l'importante è il concetto, eh? E poi sappiamo che la loro differenza, la differenza delle temperature, mentre ho preso la temperatura maggiore meno quella minore, è 250 Kelvin. Allora, andiamo avanti. Io dalla prima riga moltiplico di qua e di là per TC e quindi trovo che TF è giustamente più piccolo di TC perché è solo il suo 56%, quindi viene che TF è 0.5638 TC. Sotto ho la differenza, quindi so che la lascio sempre così, vedete non l'ho ancora toccata. E allora adesso vado a sostituire, perché se TF vale 0.5638 vado a sostituire questa informazione qua e quindi questa riga rimane uguale e diventa tc meno, al posto di TF scrivo 0.5638 TC uguale a 250 Kelvin e quindi viene, devo ancora fare 1-0.5638 e quindi mi ritorna il valore del rendimento 0.4362 TC uguale a 250 Kelvin. e ho finito, magari si può fare in un altro modo più semplice però, e quindi TC ragazzi viene 250 diviso 0.4362. Quindi mi viene una sorgente, diciamo, temperatura di 573.13 Kelvin e invece una temperatura fredda che è, come era legata, era 0.5638 per questa temperatura qui e quindi risulta 323.13 Kelvin. Ecco ragazzi, trovate con due passaggini, ovviamente qual è l'idea? Che se devo trovare due variabili io ho bisogno di un sistema a due righe e la prima riga era sul rendimento e la seconda riga era nei dati. Ho trovato tutto, l'esercizio è finito, mi manca solo, e quindi questa informazione adesso non mi serve più perché questo fa 573.13 e questa 5323.13 Kelvin. E adesso ragazzi, sapendo la potenza, io posso anche avere informazioni su quanti cicli ho ogni secondo. Allora ragioniamo. La potenza cos'è che è? La potenza è il rapporto tra il lavoro ed il tempo, quindi la potenza è il lavoro diviso il tempo. Ma il tempo di che cosa? Ad esempio, noi sappiamo ragazzi il lavoro di un ciclo, no? Ecco. Quindi significa che possiamo andare a calcolare quanto tempo dura un ciclo. In questa formula io conosco la potenza ed il lavoro, ok? E quindi posso andare a trovare quanto tempo dura un ciclo. Facciamo la formula inversa, vabbè, se mi interessa di ciò nessuno avrà difficoltà a fare una formula inversa. Quindi il tempo di un ciclo sarà uguale al lavoro diviso la potenza per i polli, bastava moltiplicare di qua e di là per il delta del ciclo, e poi quindi dividere di qua e di là per la potenza. Comunque viene che il tempo è il lavoro diviso la potenza. Bene, e allora io ho i dati, perché il lavoro allora faceva 4100 joule fratto la potenza che è di 340 watt. Bisogna stare attenti ragazzi adesso a cosa si ottiene. Però se faccio 4100 diviso 340 viene 12.059 che cosa? Secondi, ok? Questo è il tempo di un ciclo. È quello che io chiedevo, per caso? No, io chiedevo il numero di cicli in un secondo, che è esattamente il contrario. Mi spiego. Quindi vuol dire che un ciclo dura 12.059 secondi. E allora noi potremmo fare una sorta di proporzione. Nel senso che, cosa ci diciamo? Noi dobbiamo ragazzi trovare il numero di cicli in un secondo e sappiamo che un ciclo corrisponde a questo tempo qua. A parte che la soluzione è fare l'inverso di 12.059, però come si fa? Io dico un ciclo sta al tempo necessario per farlo. Come? Se io chiedo ragazzi il numero di cicli in un secondo allora significa che io come tempo, ok? Con la proporzione voglio un secondo. Quindi come invece il numero di cicli sta in un secondo. Quindi ho detto sostanzialmente che se passano 12.059 secondi io riesco a fare un ciclo. E mi chiedo, se passa solo un secondo, quanti cicli riesco a fare? Ovviamente di meno. E infatti il numero di cicli viene trovato ragazzi facendo, allora essendo un medio, devo fare gli estremi, quindi un secondo per un ciclo diviso 12.059 secondi, quindi semplifico i secondi con i secondi e devo fare appunto 1 diviso 12.059 che fa 0,083 cicli. E infatti ovviamente se tu in 12 secondi fai un ciclo, è come se tu in 12 secondi fai un giro, è ovvio che non fai, non riesci neanche a fare un giro in un secondo, no? Fai circa l'8% di sviluppi, l'8% di un ciclo solo in un secondo. Ragazzi niente, quindi abbiamo utilizzato le relazioni classiche per risolvere esercizi con macchine termiche ideali. Vi ricordo che poiché era ideale il rendimento si può trovare in due modi. Se invece fosse stato reale, il rendimento si poteva solo trovare facendo L su QC, mentre 1-TF su TC era solo un valore ideale, ok? Che non poteva essere raggiunto da una macchina termica reale.